Quando si parla di questa civilizzazione così larga e mondiale, si parla di un'Atlantide, una civiltà che poi è scomparsa, ma che era poi mondiale, insomma, si manifestava in tutto il mondo. È questo? O possiamo ipotizzare l'arrivo di qualcuno che ha fatto queste cose e perché ha fatto queste cose sul nostro pianeta? Sì, sono stati 18,000 anni fa e 12,000 anni fa. In la prima fase, c'erano due grandi isle. Una nuova scienza chiamata di antropologica genetica investiga la migrazione di persone. La più vecchia in Europa sono i Baschi, 55,000 anni. Spagna, Suddana Francia. La stessa gruppa haplogrupa, la stessa gruppa genetica, Berberi in Africa, indiani in Amazon, Brasil, e in Guatemala. Quattro continenti, Europa, Africa, Sud America, Nord America. La stessa gruppa genetica. Quattro genetica. Quattro genetica, che c'erano? La distribuzione del centro, in la medalla, Atlantis. La seconda, la stessa gruppa haplogrupa in India, Ecuador, Chile. La stessa gruppa. c'è la presenza dell'intelligenza. L'esistenza di Atlantis o Madeline Mu non è metafisica, è stato un fact fisico. Quanto potrebbero sviluppare tecnologie, non sappiamo. È molto possibile che hanno influenzato la creazione di genetica, e si scopriamo. Ora, un'altra domanda che hai spiegato, dove è venuto il knowledge? Per pensare che siamo gli unici intelligenzii, molto semplici e egoisti. Certo. Ci sono molte formi intelligenze nel universo. Più vicino al centro del universo, più avanzate. E siamo molto vicino dal centro del universo. Abbiamo un lungo modo per sviluppare. Ci sono molti visitatori sul nostro planeto. Certo. 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 Ci sono stati risultati del genetico. Più vicino al centro del universo. Più vicino. Più vicino al centro del universo. Più vicino al centro del universo. 400.000 anni fa, era probabilmente il rilevo degli scambi. Abbiamo il neandertal, un grande cervello, ma ancora un uomo. Abbiamo i homo sapiens, i cromagnoli, noi, l'intelligenza, l'artistico, ma i scambi. E poi abbiamo i più avanzati. La presenza di questi cerchi di pietre che ci sono in Sudafrica, dove c'è poi la nascita dell'uomo e dove ci sono le miniere d'oro. E quindi con Michael Tellinger abbiamo fatto proprio questo filmato per raccontare questo. Lui mi dice che le costruzioni delle piramidi, la piramide di Bosnia e anche di tutte le piramidi esistenti sulla Terra, così come di tutto il megalitismo esistente sulla Terra, megalitismo che poi è andato anche sott'acqua nel caso di Johanna Guni, eccetera, si divide in periodi diversi nel tempo che potrebbero corrispondere a un intervento di popolazioni altre che appunto hanno agito sulla Terra. E in un periodo preciso, si parla di centomila anni, nasce l'uomo sapiens, fra l'altro in Sudafrica. Quindi anche l'uomo sapiens può essere frutto di questi interventi. Però stiamo parlando di periodi successivi nei quali appunto vengono fatte queste operazioni di megalitismo che hanno delle funzioni. Lui le collega ad Atlantide, a Mu, le collega a queste civiltà anche che arrivano e poi se ne vanno o a una civiltà comunque unica che è intervenuta in diversi momenti della nostra storia. L'uomo sapiens ha venuto a noi sulle piramidi, stoniboli, tumuli. L'uomo saperebbe come la geometria e le elementi di sicurezza possono effettare l'energia. Con il tempo alcune delle comunità hanno iniziato a creare stonibili stonibili stonibili, dolmen, menhir. ma l'origenale ha venuto da l'unica come la sua storia. L'uomo saperebbe l'Adafrica è una città e oggi molti città sono perdita ma è un città ma è un città complesso non solo un città ma diversi città e diversi line e avevano le funzioni astronomiche e anche le funzioni energetiche le funzioni 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 dell'Africa e la popolazione e potremmo vedete attraverso il mondo le civilizazioni sull'America che avevano molto avanzato la construzione grandi strutture le strutture i le pozioni tercani le piramidi la piramidi città i Giza la piramidi non è impossibile dambra le piassate delle persone che ci stanno in Bosnia anche che hanno costruito le piramide moderne, i benefici di energia. Sprengite, quando pensiamo di creare un' nucleare planta. Non lo farei nel centro del centro con milioni di persone, ma creare un' speciale place, vicino il luogo, fuori da le persone. Le piramide creare, scoprile, scopriano la locazione. In Europa, 34.000 anni fa, non c'è l'espo. In Austria, Germania, Polona, si sono scopriati da l'espo, vicino all'Adriatico, c'è molta rivera, fertile land. Quindi, creare un' piramide per avere la funzione cosmologica, la comunicazione su una grande scala, in l'università. E per quelli che venivano, necessitavano un'esplice vibrato, un'esplice vibrato. che venivano, le piramide regenereravano le persone. Quindi, le piramide in Bosnia, Mexico, Egypte, China. con queste piramide scopriano lit Online potrebbero ottenere questa energia entro il planeto, fare protettive o fare una spagna contro gli gli enemy. Fuori sempre è solle l'energia. Oggi? Gas, aere, l'elettrice Certo, abbiamo detto. Certo. Tu come hai scoperto questo luogo? People could see the shape, but people are programmed. When you talk about pyramids, in schools, they teach us to automatically think about Egypt, Pharaoh's tombs. Quindi è collegato questa idea, insomma. So, when I came, when I saw, people call it hill, I saw four sides, triangular sides, compass, bussola, perfect orientation. For me, no doubt, it was an artificial structure. L'aveva sempre pensato, o l'ha scoperto in un punto, in un momento? For 30 years, before that, I was researching pyramids, ancient civilizations. And I knew that most pyramids are covered by soil. So for me, it was no surprise. Tu sei della zona, tu lavori in America, no? I was born in Bosnia, Yugoslavia, but for the 25 years, I was in United States, in Houston, Texas. From Houston, I was traveling to Central America, Guatemala, Honduras, Mexico, Salvador, Costa Rica, Stombolus, Peru, Bolivia, China, all over the world, and writing books. So, I had experience about pyramids. I came to Bosnia and we started this archeological project. In the last 13 years, it has become the most active archeological site in the world. Every year, our non-profit foundation is having hundreds of volunteers, experts from different fields, scientific conferences, tens of thousands of visitors. It has become the most exciting project in the world. Many discoveries every year. And this is the most open project in the world. No elite science. No confidential information. It's open for everyone. That's very important. because the knowledge belongs to all of us. Bello. I will come to see the pyramids. We expect you to come to Visocco. Here is the Bosnia and the sun. It's crazy. It's crazy. A pyramid of this type I think cannot be attributed only to humans. The science, the archaeology, believes in this thing, has been investigated. Is it possible the problem or is it always a separate category who is investigating these things? They are always the ordinary people who are investigating these things. In the last 13 years, there were polarized opinions. People who never came to Bosnia from archaeological institutes, museums, saying it is impossible to have pyramids in Bosnia. But they have never done lab analysis, radiocarbon dating, sample testing, energy measurements. And they are saying it's impossible. They are not scientists. They give their opinions. opinions are irrelevant in science. But we have many independent researchers coming, measuring, analyzing, and they support the project. in Bosnia. All right, we have a appointment in Bosnia to see this huge pyramid that shows us that there was another intervention that there were others on our planet. I don't know if there are still, but in any case, there is a story to discover, there is a whole other story to know. to know. See you next time to our meeting in Bosnia. Ok? Yes, yes. Thank you. Thank you very much. Thank you.